È grande la mano piacentina per l'Emilia Romagna. In neanche una settimana dalla decisione di promuovere una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, sono stati raccolti 41.000 euro. Un segnale di vicinanza concreta alle popolazioni che hanno perso tutto a causa dell'alluvione. Un tassello nello smisurato puzzle di aiuti che quotidianamente sostengono il desiderio di ripartenza dei cittadini coinvolti. La sottoscrizione promossa da Editoriale Libertà e Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati testimonia ancora una volta l'altruismo che guida le scelte dei piacentini. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a interventi di soccorso nei luoghi maggiormente colpiti e a progetti di ricostruzione, in accordo con il Comitato Provinciale di Ampas e la sede piacentina di Croce Rossa. La raccolta fondi prosegue e per chi desidera contribuire a far crescere la forza del nostro aiuto, resta aperto il conto corrente presso Credit Agricole Italia intestato a Editoriale Libertà. La causale da indicare è Libertà per alluvionati Emilia Romagna. In questo modo rendiamo sempre più grande la nostra mano rivolta alle migliaia di persone colpite dall'alluvione. Grazie. 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 Grazie.